12 appuntamenti alla scoperta dell'afano di un tempo lontano e dei fatti e avvenimenti che l'hanno contraddistinta. Torna all'interno della chiesa Santa Maria del Suffragio, in piazza Cleofilo, i giovedì della confraternita, conversazioni e incontri sulla storia e le vicissitudini della città. Dal 19 giugno fino al 12 settembre, tanti relatori racconteranno al pubblico, anche attraverso immagini e ricordi, la vita di allora e l'evoluzione della comunità. I giovedì della confraternita, anche quest'anno, al terzo anno di seguito, ci svolgeranno alla chiesa del suffragio ogni giovedì a partire dalle ore 21, gli incontri sulla storia della città, sui personaggi, sui fatti, sulle cose, sugli anniversari. Gli incontri sono tenuti da valenti personaggi, fanesi e non fanesi, da ricercatori, studiosi della storia della città e così via. Perché parliamo di anniversari, parliamo di anniversari che sono anniversari del 24-4, questo è un numero fotidico, nel 24-24, nel 1944 la conclusione della guerra, la liberazione di Fano, due incontri con due personaggi che ci raccontano la città. Altri anniversari, 1974, il giornale di Fano, una storia della città, Telefano, prima via Cavo, poi via Etere, un'altra grande e bella storia. Poi parliamo dei villini, delle vacanze dei nobili fanesi, sia di Torrette che di Monte Illuminato. Tutto questo, comunque, il più ricordato sarà l'incontro con il Papa nel 1984 con i pescatori. È una storia, una storia importante, questa che Fano dovrebbe ricordarsela, che cerchiamo di ricordarla noi. Altre cose, tutti i giovedì. Vi aspettiamo il giovedì, escluso quello di agosto alle 21. Questo e molto altro. Tutti i 12 appuntamenti ad ingresso libero si svolgeranno alle ore 21 e il programma completo è visibile sul sito della Confraternita del Suffragio.